Stavamo ancora dormendo, ancora con gli occhi assonnati, mi arriva una telefonata e dice Michele accendi la televisione perché il Papa c'è il tuo pastorale tra le mani. È il 14 novembre 2021, giornata mondiale dei poveri, quando Papa Francesco, in occasione della Santa Messa in Vaticano, decide di utilizzare il pastorale realizzato da Michele Todisco. Un'emozione indescrivibile e visibile negli occhi del 46enne di San Ferdinando di Puglia, scultore e mosaicista, un lavoro realizzato con cura e su commissione della Santa Sede, Bergoglio ha impugnato tra le sue mani un'opera tutta pugliese nata nella terra offantina con un materiale molto semplice, l'ulivo. È un materiale povero, un materiale della Puglia, un materiale della nostra terra, un pezzo di ulivo che viene da San Ferdinando, dal mio paese. Quando Papa Bergoglio ce l'ha tra le mani, mi piace pensare che porta tra le mani un pezzo del mio paese, un pezzo di San Ferdinando. Il pastorale è stato riutilizzato da Papa Francesco anche durante le celebrazioni eucaristiche di Capodanno e del 6 gennaio, un crocifisso realizzato nei minimi particolari con la collaborazione di Valentina Bracalenti, micro mosaicista del filato romano, tra le più esperte in assoluto e la stilista Doralo Russo che ha curato la cassettina a porta pastorale in seta e fili d'oro, un'idea nata dall'esempio di un altro pontefice. Io mi sono ispirato a quello che per 27 anni ha portato tra le mani Carol Wettipa, Papa Giovanni Paolo II. L'abbiamo rivisitato, rivisitato utilizzando sì la stessa forma, le stesse linee, impreziosendolo nel nodo centrale come si vede in questa foto con questo micro mosaico filato romano che è proprio un classico del micro mosaico vaticano. In passato Michele Todisco ha già contribuito ad un'altra opera che ha avuto l'apprezzamento di Papa Francesco, un mosaico 3D realizzato per la parrocchia di Santimotio di Termoli, un santo a cui Bergoglio è notoriamente devoto, è stato proprio il pontefice argentino a dare il via libera e porre la sua firma sul primo tassello del mosaico, lavorato poi da Michele. Questo mosaico, il primo like, il primo mi piace, è stato dato proprio da Orga Mario Bergoglio il 16 giugno in casa Santa Marta, quando il parroco Don Benito Giorgetta, che non smetterò mai di ringraziare, ha portato i primi schizzi preparatori di quel mosaico insieme col vescovo Gianfranco De Luca e il vescovo di Termoli e il Papa così semplicemente a casa sua ha detto mi piace, andate avanti. Una storia di passione per l'arte sacra, quella di Michele Todisco, culminata con la realizzazione del pastorale utilizzato dal Papa a San Pietro, portato in dono attraverso le mani degli ospiti della comunità Ictus di Termoli. Sono detenuti a fine pena, ox detenuti che hanno deciso di percorrere la strada giusta finalmente, che hanno portato loro nelle mani di Papa Bergoglio il nostro pastorale, ed è un bel gesto, portato dagli ultimi.